La peschiera, all'inizio, nel Cinquecento, quando è stato fatto questo giardino, qui c'era un laghetto, poi hanno fatto questa qua, in termini tecnico queste colonnine qua, questa cosa si chiama balaustra, io non lo sapevo. Attenzione che c'è il jazz. Questa è la balaustra e questa è la ringhiera, vediamo se ci sono i pesci, non ne vedo, eccola qua le carpine, non so quanto riuscirò a riprenderle, eccola qua.